Detto anche il riformatore, l'enneatipo numero uno idealizza la perfezione, la giustizia, la bontà, il miglioramento di sé e soprattutto il miglioramento degli altri. Secondo Claudio Naranco, l'attività principale dell'enneatipo numero uno è l'attuazione della perfezione, che consiste nel tentativo disperato di migliorare, oltre che se stesso, anche tutto ciò che lo circonda. Il motto di questo carattere è io ho ragione, io sono buono. Egli crede di essere buono ed irreprensibile e crede anche di desiderare il bene per gli altri, migliorando le cose e rendendole perfette. Ecco perché viene anche definito il raddrizza banane. E quando questo desiderio è sincero, come negli enneatipo numero uno liberi dalle prigioni del carattere, può condurre a personalità di grande spessore, come il filosofo cinese Confucio, che con la propria etica meticolosa ha fornito delle preziosissime indicazioni sul come vivere bene. Quando invece questo desiderio è ancora viziato dalle prigioni del carattere, ci troviamo in presenza di enneatipo numero uno ancora prigioniero dei propri ideali dell'io, il che porta ad un'eccessiva rigidità e un'eccessiva fissità. E questo porta ad un modello di perfezione e di bontà che scaturisce da schemi acquisiti durante le esperienze precoci fatte durante l'infanzia, oppure alla distorsione di quella qualità essenziale che si cela dietro l'ideale dell'io. L'enneatipo numero uno intuisce in qualche modo la giustezza che si cela dietro ogni cosa nell'universo, ma non può proprio fare a meno di distorcere questa giustezza attraverso le lenti colorate del proprio superio. E per chi non lo conoscesse il superio che cos'è? Secondo il buon Freud esso non è altro che l'interiorizzazione, quindi l'aver preso dentro di sé le figure genitoriali e in particolar modo di quella parte autoritaria delle figure genitoriali. E per ricongiungere i pezzi ti ricordo che l'ideale dell'io fa parte del superio, anzi è un po' come se scaturisse proprio dal superio. Sarebbe un po' come dire, data l'educazione che ho ricevuto e le modalità con le quali mi è stata impartita, il mio ideale dell'io avrà una forma piuttosto che un'altra. E nel caso dell'enneatipo numero uno, più i suoi genitori sono stati severi ad impartirgli la propria educazione e più egli diventa rigido e critico nel tentare di migliorare e riformare se stesso e gli altri. Straripa letteralmente di risentimento e di giudizio e si sforza terribilmente per correggere se stesso, gli altri e le situazioni in funzione delle linee guida dettate dal proprio superiore. L'esempio tipico è quello dei missionari che andavano in giro per il mondo per riformare i poveri selvaggi barbari e farli diventare dei cristiani perfetti. Pare che l'enetipo numero uno giustifichi la propria rigidità nei confronti di se stesso tanto da crearsi un vero e proprio inferno personale pur di apparire perfetto agli occhi dell'altro. Emerge al suo interno una voce talmente severa, talmente inclemente da non avere alcuna pietà nei confronti di se stesso e fin tanto che non si separa da questa voce non c'è verso che possa uscire da questa prigione. E sebbene si ritenga che il superio e gli ideali che da esso scaturiscono concorrano alla formazione della nostra coscienza, in verità essi non sono altro che le brutte copie delle figure importanti, i genitori, che abbiamo incontrato durante l'infanzia. La vera coscienza per contro è estremamente flessibile e quando riusciamo a contattarla autenticamente può guidarci davvero sulla via dell'essere. Ed essa non ha nulla né di severo né di rigido né di crudele come invece troppo spesso accade alla coscienza che emerge per l'entipo numero uno ricalcando e scimmiottando quella del proprio superio. Aspetto idealizzato, brillantezza. L'entipo numero uno ad uno sguardo attento appare autentico e con uno sguardo estremamente luminoso. E questo perché tale luce non è altro che il riflesso della qualità idealizzata della perfezione che è l'intelligenza essenziale. La maggior parte delle persone pensa per esempio che l'intelligenza, quella vera, abbia a che fare con il quoziente intellettivo, con la massa grigia, con i neuroni, con le sinapsi eccetera eccetera. Pensa che abbia a che fare con l'avere una mente acuta, perspicace, piena di idee, infarcita di concetti, di teorie, di conoscenze. E se fosse così allora le menti più eccelse come quella di Einstein dovrebbero irradiare luce e illuminare tutta la stanza. Ma è veramente così? Ma la vera intelligenza non è altro che una qualità dell'essere che brilla di luce propria, intensa e che potremmo chiamare intelligenza brillante o semplicemente brillantezza. Essa è una super qualità essenziale perché racchiude in sé tutte quante le qualità dell'essere. La sua qualità principale è un senso di completezza, di chiusura, di pienezza ed è proprio questo che fa scaturire un senso di perfezione. La perfezione non può che emergere dalla comprensione intima ed autentica che l'intero universo non può che essere perfetto, così com'è e come potrebbe essere altrimenti. Ma per comprendere questo è necessaria un'intelligenza essenziale, un'intelligenza brillante, non separativa, che non può essere colta dalla mente razionale, che per sua stessa natura non fa altro che dividere, che catalogare e separare. E questa intelligenza brillante non necessariamente risiede dentro la nostra testa, dentro la nostra mente. Certo che vi può essere quando utilizziamo la mente in modo saggio, ma può essere anche dentro al nostro cuore, quando rispondiamo emotivamente ed utilizziamo quel pensiero del cuore di cui parla James Hillman. E può apparire anche dentro la nostra pancia, quando le nostre azioni sono orientate in modo armonioso, aggraziato, elegante. Questa intelligenza brillante, in altre parole, può emergere soltanto quando il cuore, la mente e la pancia diventano un tutt'uno integrato. E allora possiamo scoprire che la perfezione è intrinsecamente legata alla completezza dell'essere che siamo e che ci circonda. Presenza della brillantezza. Ci sono molti modi in cui questa brillantezza si può manifestare nella nostra esperienza. Essa può manifestarsi con estrema potenza, con una sorta di immensità e ci fornisce quella capacità di sintesi che ci permette di comprendere il tema soggiacente alle cose che solo apparentemente sembrano separate. E quando ciò accade il sentimento prevalente è quello di una grandissima presenza. Una presenza piena, a tutto tondo, che include sia il corpo che la mente, che il cuore. Non stiamo parlando qui di intelligenza in termini di effetti, come quando supero un esame, per esempio, oppure quando realizzo una qualsiasi cosa nella vita o faccio un bel progetto. Stiamo parlando qui di come la presenza dell'intelligenza si manifesta. L'essenza di questa intelligenza è brillantezza pura. Tanto che quando ci troviamo al cospetto di una persona che brilla di questa lucentezza perché ha integrato tutte le parti del proprio essere e del proprio corpo, allora ci sembra di poter vedere questa brillantezza e addirittura è possibile che ci si senta quasi contagiati e di brillare a nostra volta di luce riflessa. Mi riferisco in questo caso a quei saggi o quei maestri illuminati al cospetto dei quali è semplicemente piacevole, tranquillizzante, riposante sostare. E perché mai questa intelligenza dovrebbe essere illuminosa, ti starei chiedendo? Perché l'intima natura dell'essere è luce pura e tutti noi possiamo disvelare questa luce che è soltanto stata opacizzata dai nostri condizionamenti. Caratteristiche della brillantezza. E a questo punto risulta molto più facile tentare di comprendere che cosa cerca di imitare e di emulare l'ideale dell'io dell'enetipo numero uno. La brillantezza esprime il nostro essere in modo puro, completo, totale. La brillantezza è pura perfezione. Ed è questo un esempio molto concreto del legame tra l'idea sacra dell'enetipo numero uno che è la sacra perfezione e la sua qualità essenziale che è l'intelligenza brillante. L'enetipo numero uno desidera sia esprimere la perfezione della vera natura ma non la conosce affatto perché non può far altro che distorcerla attraverso la lente del proprio ideale dell'io e del proprio superio. Egli vuole che tutto sia completo, perfetto, giusto, compreso se stesso e gli altri. Crede che i propri principi morali provengano dalla coscienza, dall'essere, ma in verità essi non sono nient'altro che un riflesso di quelli. E questo tipo di perfezione richiede in verità un intenso sforzo per essere portato a terra e si basa solo su supposizioni e convinzioni su come debbano essere fatte le cose, su come si debba agire, sentire e pensare. E pertanto questa perfezione non può esprimere l'intelligenza dell'essere ma soltanto i giudizi e le idee del superio. Ed è per questo che quando tutto ciò viene disatteso l'enetipo numero uno si offende, prova un profondo disagio, si arrabbia e diventa tutt'uno con il proprio risentimento. E allora non sorprende affatto che l'enetipo numero uno possa diventare un grande riformatore in campo morale, sociale, politico, sociale ed etico. Mentre l'enetipo numero uno illuminato è assolutamente flessibile ed utile e sensibile, l'enetipo numero uno fissato nel carattere serva questa inflessibilità e rigidità di fondo. Pensa a Maometto, il profeta dell'Islam, che in prima battuta è stato un grande riformatore, sì, ma all'insegna di una giustizia pura ed innocente. E questo ci permette di comprendere come la brillantezza in verità non ha bisogno di appoggiarsi su giudizi, su opinioni, perché essa è una qualità dell'essere che è per sua natura perfetto. Il vero movimento nella direzione della perfezione consiste nella conoscenza di se stessi e nella conseguente realizzazione del proprio essere. E invece l'enetipo numero uno cosa fa? Si sforza terribilmente di essere buono, corretto e giusto. Probabilmente perché doveva farlo durante l'infanzia, per essere visto, amato ed apprezzato dai propri genitori, che erano eccessivamente duri e normativi. E ciò non sorprende affatto, perché essere buono fa parte del suo ideale dell'io. Ma sfortunatamente tutto ciò dipende da una moralità artefatta, presa a prestito, che troppo spesso sfocia in una mancanza di responsabilità. Dobbiamo comprendere profondamente che per uscire da questa prigione caratteriale, l'enetipo numero uno deve realizzare che il proprio ideale dell'io è falso, non è reale, è soltanto un fantasma, una fantasia che scaturisce da una strategia messa in atto da bambino per ringraziarsi i propri genitori o le figure che ne facevano le veci. E solo così è possibile andare oltre questo spauracchio ed avvicinarsi all'aspetto essenziale che è stato soltanto idealizzato. Un esempio di enetipo numero uno che si è avvicinato molto a questa comprensione è la regina Elisabetta II. Essa si è trovata a dover mitigare la perfezione di una tradizione della quale rapporta voce con le esigenze della vita moderna dei propri sudditi. E questa sfida le ha permesso di avvicinarsi moltissimo alla qualità essenziale dell'intelligenza brillante che è vera perfezione. Se evitiamo di dare per scontato l'ideale dell'io ed impariamo ad osservarlo e a conoscerlo, in prima battuta scopriremo tutte le influenze e tutte le norme che scaturiscono dal nostro super io. Allora cominceremo a comprendere veramente da dove provengono tutti i nostri giudizi e ad avere intuizioni completamente nuove e diverse rispetto al nostro funzionamento. Approccio diretto alla brillantezza. Si tratta semplicemente di esaminare tutte le nostre idee in merito all'assenza di perfezione e di giustizia e di come siamo bravissimi a scovare sempre la scorrettezza e l'ingiustizia per le quali proviamo rancore, ci indigniamo e ci arrabbiamo. Sembra proprio che non conosciamo una perfezione che risulti incorruttibile e durevole ed è proprio questo che ci porta a sperimentare la disconnessione dalla perfezione e dal nostro stesso essere che ne è il supporto principale. Potremmo inoltre provare ad esplorare il nostro rapporto con l'intelligenza, riteniamo di averla o pensiamo che ci manchi per esempio. Se sentiamo di averla cerchiamo di scoprire quali sono le sue manifestazioni più pure, più essenziali e se sentiamo di non averla invece cerchiamo di comprendere che effetto ci fa questa sua mancanza. E in questo processo molti devono lavorare sulla figura del padre perché c'è qualcosa nella brillantezza che ci induce a proiettare sulla figura paterna la qualità essenziale dell'intelligenza, come ci induce invece a proiettare sulla figura materna la qualità essenziale dell'amore fusionale. Integrando la brillantezza che è l'essenza dell'intelligenza e della vera perfezione impariamo moltissime cose sulla nostra vera natura, sul nostro essere più autentico e abbiamo scoperto che il vero potere della brillantezza è quello di sintetizzare delle intuizioni talmente ampie, talmente ricche che non possono in nessun modo essere abbracciate e rinchiuse nella nostra mente ordinaria. E anche questa volta abbiamo scoperto sì quali sono le chiavi per liberare l'natipo numero uno, in questo caso dalle prigioni delle proprie fissazioni caratteriali, ma abbiamo aggiunto anche una tessera fondamentale a quel grande puzzle che chiamiamo anima. Grazie per la visione! Ciao! Ciao! Ciao!